Impareremo principalmente ad approcciarci con il nostro soggetto, a valutare lo spazio che abbiamo a disposizione e poi una parte un po' più tecnica dove vedremo effettivamente che tipo di letto utilizzare, come conviene scattare, quali sono i punti più adeguati per riuscire a far venire una serie fotografica che possa raccontare effettivamente una storia.